Crescono di oltre il 14% le vendite dei prodotti agroalimentari con il termine Puglia in etichetta. E boom del regionalismo a tavola anche sotto la spinta dell'emergenza Covid e della voglia dei pugliesi di prodotti del territorio sani e genuini. Sentiamo. Con il boom del regionalismo a tavola anche sotto la spinta dell'emergenza Covid e della voglia dei pugliesi di prodotti del territorio sani e genuini sono aumentate di oltre il 14% le vendite dei prodotti agroalimentari con il termine Puglia in etichetta. Un successo frutto delle battaglie condotte sul fronte della garanzia della tracciabilità dell'origine della sicurezza alimentare a beneficio dei consumatori. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia la luce dei dati di uno studio che parla della crescita e dell'affermazione dell'italianità a cui hanno contribuito tutti i prodotti gastronomici tipici pugliesi che hanno tirato la volata delle vendite proprio perché made in Puglia. Un altro segmento in forte espansione è quello del veggie e dei prodotti biologici, afferma la Coldiretti regionale, con la spinta salutista determinata dalla lunga emergenza epidemiologica che ha fatto crescere del 4% i consumi di prodotti biologici acquistati dai consumatori. La Puglia è la seconda regione più bio d'Italia, con 266.000 ettari coltivati e 9.380 operatori, una incidenza del 20% delle superfici biologiche sul totale, dove sono aumentati nel 2020 i consumi familiari di questo tipo di alimenti. In Puglia è cresciuta di un ulteriore 1% la superficie biologica e dell'1,1% di produttori e preparatori, dopo un processo di stabilizzazione e normalizzazione rispetto alla diffusione del metodo biologico registrato negli ultimi anni, mentre continua l'aumento tendenziale dei consumi, delle ditte di trasformazione e dei servizi connessi alla filiera dell'agricoltura biologica, come agriturismi, mense bio, ristoranti e operatori certificati. La continua richiesta di prodotti freschi e di stagione stimola l'imprenditore biologico a ricercare ulteriori forme di contatto commerciale con il consumatore, i timori dei consumatori innescati dal virus e soprattutto dagli scandali alimentari si sono tradotti, conclude col diretti Puglia, in una seria preoccupazione per la sicurezza alimentare e in una domanda crescente di garanzie di qualità e maggiori informazioni sui metodi di produzione.